Salve a tutti amici del Polagheco, siamo qui con i bomber dell'Oribe FC con il colino Nicolò, ciao Nicolò! Nicolò, prendi doppietta, la squadra sta vincendo, che dici di questa partita di questo doppietta? La squadra sta vincendo, che dici di questa partita, la squadra sta vincendo, che dici di questa partita? A chi dedichi la doppietta Nicolò? Come ti trovi con il ministro della squadra? E a quello giocatore ti spieghi a Serie A Va bene, grazie Nicolò A chi? De Iola No, De Ion Ah, va bene, grazie